4. Godetevi la vostra possibilità. Santa Maria delle Mole, attraverso Roberta S. Guida. I messaggi che vi giungono siano per voi fonte di luce e di forza. Fate che queste parole possano accendere il vostro entusiasmo e il vostro miglior intento nel cammino che state intraprendendo. Spetta a voi trasformare le parole in luce, spetta a voi modificare il suono di una parola in una vibrazione piena di sentimento. Le vostre vibrazioni si ripercuotono nell'ambiente in cui siete e vi aleggiano intorno, fino ad avvolgere la vostra essenza attuale. Se non pulite le vostre energie, finirete per assorbire qualcosa che non volete affatto avere nelle vostre vite. Quindi vi ripetiamo ancora una volta di purificare i vostri pensieri e fare in modo che essi siano privi di astio, rancore e paure. Fate che i vostri pensieri siano volti alle bellezze e alle ricchezze che vi circondano e non a ciò che vi manca o credete vi verrà a mancare. Nessuno potrà mai togliervi ciò che è vostro, il vostro ritmo, la vostra essenza e al sicuro se non la inquinerete con pensieri lontani dalla verità che vi compone. L'esercizio che vi chiediamo di fare è costante e ripetitivo, ma vi può dare notevoli soddisfazioni interiori e arricchire il vostro mondo spirituale. Allentate le vostre chiusure. Avete scelto di isolare quella parte di voi che non corrisponde al comune credo o al comune agire. Ma così soffocate la vostra capacità di donarvi, una capacità che vi arricchisce più di tutte le altre, l'unica capacità che dovreste sempre coltivare in qualsiasi momento. Donate la vostra compagnia a chi ve la chiede, le vostre parole a chi vi chiama e i vostri pensieri a chi vi vuole bene. Smettete di interessarvi di ciò che l'opinione pubblica vuole per voi. Piuttosto concentratevi su ciò che voi volete raggiungere senza necessità di appoggiarvi all'opinione pubblica. A voi non serve il consenso di nessuno. Non siete dei politici. Quindi godetevi la vostra possibilità di non interessarvi di fatti che accadono lontano da voi. E questo ve lo diciamo non per togliere da voi la voglia di aggiustare le cose per tutti, ma per togliervi quell'ostinazione di voler controllare situazioni distanti dalle vostre vite e che poco incidono sui vostri cammini. Accorgetevi invece delle persone che vi camminano a fianco, delle loro difficoltà. Accorgetevi che nessuno è sereno se non trova almeno una persona con cui condividere qualche pensiero. Siate voi quella persona, siate presenti per chi vi è vicino, siate presenti nel vostro stesso percorso, non rifugiatevi in situazioni estranei a voi, perché semmai qualcosa dovreste rimproverare alla vostra società e di volervi allontanare da voi stessi, dalle vostre faccende, dalle vostre situazioni. Vivete nel vostro orticello e vi accorgerete che inizierà a brillare al punto che altri vorranno fare lo stesso nel loro orticello. Siate fratelli tra di voi, ampliate il senso di unione che già avete, trasformate le energie più scure in qualcosa di leggero, giocate con i colori e divertitevi, sorridete, ridete alle esperienze che vi si propongono. Siate sereni perché non dovete temere alcuna imposizione né punizione. I vostri cammini procedono serenamente quando in voi c'è la volontà di donare, di aiutare e di dare, ma se vi chiudete e pensate solo al vostro benessere, allora finirete per sentirvi schiacciati e inutili. Fate tesoro di queste parole, sono per voi che leggete, sappiate assimilarle e sentirle dentro di voi, vi daranno forza ed energia e vi sentirete meglio. Noi vogliamo che vi sentiate meglio poiché conosciamo le vostre angosce, ma solo voi potete liberarvene, siete al comando del vostro essere e guai se non fosse così. Vi salutiamo nel segno della pace, una pace che saprete trovare e saprete anche donare.